La nave deve andare via il prima possibile. Oggi siamo in grado, quando avremo il via libera del Consiglio dei Ministri e dell'Osservatorio, di rimuovere la nave entro il 20 di questo mese. Così Franco Gabrielli, che questo pomeriggio ha incontrato la popolazione del Giglio per spiegare le modalità di rimozione della nave. Tanti gigliesi ha corso al porto per ascoltarlo. Accanto a lui, Vertici Costa e il sindaco Sergio Ortelli, favorevole alla rimozione il prima possibile. Secondo Gabrielli, la nave un altro inverno non lo può sopportare. Lo spostamento della nave a Genova, ha aggiunto il commissario per l'emergenza, a una finestra favorevole che va dal 13 luglio all'8 di agosto, che è l'ambito in cui statisticamente ci sono le condizioni meteo più favorevoli. L'allontanamento della nave, ha concluso Gabrielli, deve avvenire senza soluzione di continuità dal rigalleggiamento, come indica la delibera del Governo. Ieri, la conferenza dei servizi non aveva trovato l'accordo sulla scelta del porto dove trasferire e smantellare la nave, ferma sull'isola Toscana, dal 13 gennaio 2012. Non essendoci stata l'unanimità, la decisione è passata nelle mani del Premier Matteo Renzi, che deciderà entro lunedì. Nella votazione, 17 favorevoli alla scelta di Genova come porto per ospitare la Concordia e due contrari, la Regione Toscana e la provincia di Grosseto.